Il ragazzo contro la guerra, una storia di Gino Strada, un rocambolesco romanzo che parla di sogni, giustizie e diritti, è stato presentato dall'autore Giuseppe Catozzella a Pallo del Colle, presso la Fondazione Vittorio Bari, e a Bitonto, presso il teatro Traetta, il 15 e il 14 dicembre scorsi. Grandi e piccoli sono rimasti affascinati dalla storia di Yanis, un giovane ragazzo che tenta di superare il confine afgano per raggiungere l'Europa. Nel 2001, dopo l'attacco alle torri gemelle, è in fuga alla ricerca di un territorio non martoriato dalla guerra. In questo libro viene raccontata non solo la storia di un ragazzo che, come tanti, ha tentato di scappare da una realtà complessa e crudele, ma Catozzella accoglie anche l'occasione di narrare la storia vera del medico Gino Strada, fondatore di Emergency, che viene descritto in base alla conoscenza che l'autore ha di Gino, della sua famiglia e della sua storia, un uomo che ha saputo opporsi fermamente ai potenti, che distruggono le vite di civili innocenti. Il ragazzo contro la guerra è un libro che ho scritto pensando proprio ai ragazzi, ed è un romanzo che racconta la storia vera di Gino Strada, la sua vicenda, dalle origini umili, operaie di suo padre, alla sua decisione di studiare medicina, alla sua specializzazione tra piante di cuore e polmone a Stanford negli Stati Uniti, e poi di fronte alla prospettiva di una carriera fortunata e anche ricca come chirurgo negli Stati Uniti, lui decide per la scelta opposta, cioè decide che la sanità deve essere di tutti, e anzi che appunto la sanità serve per curare proprio chi non ha mezzi per essere curato. Siamo in Pakistan, il tredicenne Yanis cerca di superare tra mille difficoltà il confine per raggiungere l'Europa e scappare dalla guerra che sta per scoppiare. Lungo questo pericoloso viaggio il ragazzo incontra Gino Strada, e da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. L'incontro con il famoso medico italiano aiuterà il ragazzo a trovare la sua strada e a capire da che parte stare. Questo libro ci invita allora a essere tutti ragazzi contro la guerra, ragazzi nel vento, capaci di prendere posizione in sostegno della pace. Dunque un messaggio importante lanciato dall'autore, che converge nella dimensione del sociale, ma soprattutto l'accoglienza di persone che hanno ancora sogni da custodire. Non è da tutti tendere la mano a chi ha ferite da curare, ma fortunatamente c'è chi sa ancora farlo. Il Comune di Bitonto ha un progetto di accoglienza attivo ormai da anni, che riguarda gli stranieri all'interno del progetto SAI, adesso chiamato SAI ex progetto SPRAR. Noi accogliamo fino a 80 stranieri in progetti di seconda accoglienza, attraverso appunto accoglienza non solo di tipo residenziale, ma una presa in carico vera e propria delle loro esigenze, e con gli inserimenti anche di tipo sociolavorativo. All'interno del progetto SAI sono accolte intere famiglie, quindi ci sono anche i minori, che ovviamente frequentano la scuola e vengono integrati in questo modo anche all'interno delle attività culturali e educative del Comune. Il Comune di Polo del Colle, con l'amministrazione, abbiamo avuto un bellissimo esempio di accoglienza, soprattutto quando ci sono stati i rifugiati della guerra dell'Ucraina. Come Comune e anche come volontari, perché ci sono stati dei volontari, persone di Palo, che sono andati direttamente ai confini della guerra a prelevare con autorizzazioni ovviamente, un gruppo di ucraini sono venuti qui a Palo del Colle, dove sono stati ospitati da persone di Palo, che abitavano qui a Palo, sono stati ospitate nelle loro case, e come Comune abbiamo contribuito anche a un aiuto loro, nel senso anche con la lingua, hanno avuto tanta difficoltà nel comunicare, abbiamo organizzato all'interno del Comune dei corsi di italiano per poter riuscire a comunicare direttamente con loro. Non è stato facile, perché è molto complicato sotto questo punto di vista, il dialogo era minimo tra le famiglie, però con l'aiuto di una professoressa di Palo siamo riusciti perlomeno a creare questi gruppi di lavoro con queste famiglie e con i bambini di queste famiglie. Spesso i bambini sono quelli che subiscono più traumi, perché scappando dalle guerre perdono i genitori nelle traversate e si trovano in terre straniere da soli. Superare un trauma del genere è estremamente complesso, infatti quello che si può fare è cercare di fornire loro un ambiente sereno, accogliente, ma che soprattutto dia loro la possibilità poi di rivivere una situazione diversa rispetto a quella dalla quale provengono. però dare loro proprio la possibilità di colmare e di rielaborare questo trauma è un processo estremamente lungo e complesso.